Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come costruire un cannone spara TNT Cominciamo con lo scavare un buco nel terreno, su cui ci metteremo un blocco, un pistone appiccicoso Qua un blocco di slime e un ripetitore di redstone Poi dietro il ripetitore di redstone, su cui andiamo a cliccare due volte Poi dietro al ripetitore di redstone un dispenser Su questo lato un altro ripetitore di redstone, così andiamo a cliccare per una volta Un blocco qualsiasi mettiamo e un pistone appiccicoso con un blocco di slime Poi, cliccato shift, mettiamo un pulsante E così dovrebbe essere il risultato, però non ho messo TNT Così dovrebbe essere il risultato Ebbene, spero che il video vi sia piaciuto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti